Resterà a Roseto il consultorio familiare dopo alcune notizie apparse sul web che parlavano di notaresco come sede prescelta. Asle e Comune, dopo diversi sopralluoghi effettuati in mattinata, decideranno quale sarà l'ubicazione ideale per un servizio sociale fondamentale che rischiava addirittura di generare un incidente diplomatico tra le due amministrazioni che il primo cittadino di Roseto, Mario Nugnes, ha preferito chiarire. Di certo si è alzato un polverone, qualcuno ha cercato anche di strumentalizzare, noi guardando in positivo e guardando in maniera costruttiva dobbiamo analizzare i dati e i fatti. C'era stata una comunicazione prima informale e poi formale da parte dell'Asle di Teremo con una mail arrivata il 22 di agosto che paventava questa in qualche modo davvero iattura per il nostro territorio, cioè perdere due servizi essenziali perché oltre il consultorio, quindi tutto ciò che riguarda il mondo delle donne in difficoltà per servizi importanti, anche la medicina scolastica che nessuno ha citato ma è qualcosa di vero e importantissimo con servizi di neuropsichiatria infantile appunto per tutto il mondo scolastico di cui Roseto ha una fetta ampissima a livello di costa ma anche di provincia. Di detto questo ci siamo attivati subito con l'aslannetto delle polemiche, rimandando a casa dichiarazioni che mi erano state attribuite anche da altri amministratori non vere, e l'avete letto sui giornali, ma da un lato c'è la polemica che in qualche modo oggi non ci deve interessare, dall'altro c'è il lavorare, il corciarsi le maniche da subito e ringrazio per questo il dottor Giandomenico Pinto e il facente funzioni, il direttore Franco Santarelli che sono stati subito disponibili ieri in un incontro qui in Comune, oggi per un sopralluogo per valutare gli siti più idonei della nostra disponibilità sui quali intervenire in qualche settimana e nel frattempo dare una soluzione di mantenimento. Lì nella sede del Cotto ovviamente si potranno o spostare qualche settimana i lavori o in qualche modo essere all'interno di altre strutture che oggi sono già di proprietà dell'ASL, ma bisogna rimanere a Roseto da subito, questo sarà l'obiettivo, questo era l'obiettivo e questo penso che sarà il risultato di tutta la città e non dell'amministrazione. Ora quindi l'unica problematica, se così si può definire, riguarda la scelta della sede, ovviamente cercando di accelerare i tempi per garantire appieno il servizio all'intera comunità. Di certo noi mostreremo quelle che sono le possibilità perché poi loro conoscono quelli che sono i parametri, i dimensionamenti, l'accessibilità. È ovvio che noi, così per dire alcune strutture, abbiamo il Proust-Monti che ha dei locali sicuramente idoni, abbiamo la nuova palazzina dello Sprar che potrebbe in alcune sue location essere idonee, ma anche altre strutture che sono sul territorio. Di certo noi in questo giro che faremo con l'ASL mostreremo il nostro patrimonio e diremo con forza, come abbiamo sempre detto, che ci sono dei servizi che non possono essere presi.